Buonasera a tutti, siamo su Flightradar24, zona a nord di Las Vegas. L'area a nord di Las Vegas è caratterizzata da un'area montuosa e desertica di oltre 150.000 km2, completamente inaccessibili e non sorvolabili. L'area potete vedere delimitata da queste rotte bianche e gialle tratteggiate, che sono le rotte di tutti gli aerei civili e anche militari esterni all'area, merci, cargo da turismo, meglio dire di aviazione generale, che passano ai confini di quest'area. E' inaccessibile dato che, proprio qui in questo punto, è presente l'aeroporto XSDKTNX, che non è altro che l'aeroporto di Groom Lake, o meglio Area 51. Proprio quell'area che, fino ad alcuni anni fa, il governo degli Stati Uniti stesso negava l'esistenza. Adesso è rappresentata su tutte le mappe e appare anche su Flightradar. Questa è l'area 51, le piste, abbiamo le piste, abbiamo gli hangar, gli edifici, preposti al controllo del traffico aereo, alle emergenze, a tutto il resto. Non si sa bene dove siano collocati, comunque, poi ci sono delle strade che portano non si sa a dove, su queste montagne. Groom Lake, questa è l'area, che non è poi così vasta, però l'area inaccessibile, dove si presume vengano fatti test di armamenti, eccetera, quest'area è molto ampia, invece. Vicino c'è il Tonopà Test Range, qui c'è l'aeroporto di Tonopà, che è un'altra area disposta a segretezza, nella quale vengono effettuati anche qui test con armamenti nucleari, infatti in passato erano stati effettuati e sono rimasti dei segni a forma di cratere sul territorio, che potrete osservare meglio da Google Maps piuttosto che Flightradar. Non si sa quali attività vengano svolte all'interno di quest'area, è presumibile comunque attività militare segretissima, dove vengono impiegate armi sperimentali ed altro. Per questo motivo gli aerei non possono sorvolare la zona, tranne però alcuni aerei che partono dall'aeroporto internazionale di Las Vegas, questo, perché a Las Vegas sono tre gli aeroporti importanti, c'è appunto l'aeroporto internazionale, Las Vegas Nord e Henderson. Partono tutti dall'aeroporto internazionale di Las Vegas, seguono una parte di rotta tipica che seguono tutti gli aerei, gli altri aerei, poi a questa altezza di Mercury, o dove c'è questo triangolo, oppure ancora dove vedete questo tratteggio giallo, girano, virano e vanno verso l'area 51 dove poi atterrano qua. Questi aerei sono di una compagnia privata chiamata Janet Airline. In realtà potrebbe essere un nome fittizio che indica i voli che portano personale e materiale alla base, personale militare, personale civile che lavora in queste due basi militari. Questi aerei nella Janet sono caratterizzati da una librea completamente bianca e una banda laterale rossa, nessuna scritta, iscrizione, identificativo, marchio, logo, niente di niente, quindi sono diversi da tutti gli altri aerei. Partono, virano e arrivano alla base. Non sono però gli unici, infatti due giorni fa, vedendo lo storico dell'aeroporto, perché cliccandoci sopra si può vedere lo storico, arrivi, niente, partenze, niente, on ground, che sono gli aerei atterrati o in partenza con largo anticipo, niente, però due giorni fa era presente un aereo che non aveva l'identificativo Janet, come tutti gli altri voli, ma l'identificativo C-G-O-O-U. E si trattava di questo volo partito da Las Vegas Aeroporto Internazionale, arrivato, beh, tonopà, in realtà XSD è proprio l'aeroporto dell'area 51, che era questo. Come potete vedere, non è un Boeing 737 della Janet, ma un aereo completamente diverso, un Douglas DC-3, un aereo medio, di trasporto presumibilmente passeggeri, però lavora anche da cargo, come vedremo poi, che ha effettuato un volo seguendo le linee della Janet, arrivato proprio qui, atterrato all'area 51. È un aereo completamente diverso, nelle indicazioni c'era compagnia privata, non era disponibile leggere il nome di questa compagnia, ho effettuato però delle ricerche, e ho visto che la compagnia non è sconosciuta, ma ha un nome, si chiama Ken Borek Air, ed è questa. Che cos'ha di particolare? Beh, innanzitutto è una compagnia specializzata, come vediamo nei servizi, in voli e spedizione, a spedizioni artiche e antartiche, rilevazioni territoriali, beh, anche aeroambulanza e cargo e altri servizi vari, però cercando su Google si può notare che è specializzata proprio in missioni soprattutto antartiche. Allora, a cosa c'entra una compagnia di voli antartici con l'area 51 che è zona desertica, un aereo predisposto ad atterrare su ghiaccio e a operare in zone caratterizzate da temperature estremamente fredde con l'area 51 dove è vicino insomma alla Valle della Morte, quindi l'opposto, beh, le ipotesi possono essere molte. Personalmente io ho pensato che ci sia un'attività militare da parte dell'USAF, cioè l'Air Force degli Stati Uniti e l'Aeronautica Militare Americana, sul suolo antartico. Questo volo potrebbe aver trasportato del personale di ricerca, comunque operativo sul suolo antartico, con del materiale da depositare presso l'area 51 da mantenere, insomma, super segreto. Potrebbero esserci delle basi militari dell'Air Force sul suolo antartico di cui non conosciamo niente, non sappiamo niente, non sappiamo nemmeno che esistono. Però potrebbe essere un'opzione. Poi quest'aereo era arrivato e sembrava poi giunto lì e sembrava non ripartire più. Invece questa mattina, ora possiamo vedere il video che ho ripreso in diretta mentre accadeva tutto ciò, con questo. E' questo Questo è il video Alle 4.56 UTC, ore 7 dell'ora italiana, 7 di mattina E' ricomparso 7 di mattina, quindi 9 ore indietro, 7 ore rispetto a UTC Erano le 10 di sera circa in Nevada a Las Vegas Perché segue il fuso orario di Los Angeles Quindi 7 ore indietro e 9 ore rispetto a noi Erano le 10 di sera E' ricomparso, sembrava apparire da un tunnel nella montagna Però può essere un'ombra o qualsiasi cosa E sembrava dirigersi verso l'aeroporto di Las Vegas Cioè verso sud-est E ha percorso questo tragitto per un certo tratto Fino a quando invece Qui erano informazioni che stavo ricercando Fino a quando Ora lo vediamo Ha operato in un modo diverso Sembrava sparito dal radar Invece Eccolo Stava Girando attorno questo lago Che non so se è un lago ghiacciato Che lago sia Un piccolo lago all'interno Proprio nel cuore dell'area super segreta Ha deviato E si è messo a girare intorno a questo lago Eccolo Velocità di crociera piuttosto bassa 280 km orari Altitudine Medio-bassa Sui 4000 metri Ed eccolo che effettua tutto il giro del lago A 4275 metri Velocità 280 km orari E poi Sembra andare in direzione opposta Rispetto all'aeroporto di Las Vegas Cioè tornando verso sud-ovest Va verso sud-ovest Dritto Ma non ritorna alla base di Groom Lake Bensì Effettua delle operazioni Eccolo Vira a sud E poi Vira ancora a ovest Tracciando una linea virtuale Della rotta In questa maniera Qui seguiranno poi Altre linee Tutte alla stessa distanza Quindi percorre questo tragitto Gira continuamente A sud E poi a ovest Arriva in fondo E alla fine Eccolo che gira Arriva Arriva alla fine Per poi girare ancora a sud E ancora verso est E continua a fare questo tragitto Questo percorso Come se stesse facendo Delle rilevazioni Del terreno Piuttosto che Teorologiche o di altro tipo Infatti Ora vedremo Qual è il risultato finale Eccolo Gira Gira Continuamente Fino a quando Compie Lo vedremo in questa foto Eccolo Tutta la stessa distanza Compie queste manovre Per poi ritornare Verso la base Dove probabilmente È atterrato nuovamente Quindi nei pressi Di Bad Mountain Effettua queste manovre Che fanno pensare A dei rilievi Geologici Probabilmente In previsione Di un test Dell'armamento Un test nucleare Un test Di altro tipo Nei pressi Di quest'altro lago L'aereo Sempre questo Douglas DC3 Che cercando su Google Allora di questo aereo Esiste anche una versione Per la guerra elettronica Però qui si pensa più A dei rilevamenti Infatti tra i servizi Della Ken Borek Air C'erano proprio i surveys Cioè i rilevamenti Infatti Vediamo qui Ecco Varietà di Tipi di rilevamenti E operazioni Questa Ken Borek Air Si chiama anche In questo modo Enterprise Aviation O meglio La Ken Borek Air Fa parte del gruppo Enterprise Aviation Group Che è sempre Una compagnia Canadese Come la Ken Borek Che effettua Rilevamenti Soprattutto sul suolo Antartico E insomma Intorno al circolo Polare Dispone di una flotta Adatta Operazioni In zone Particolari E' possibile Ipotizzare Che sia stata Prescelta Questa compagnia Per effettuare Dei rilevamenti Su un suolo Comunque particolare Anche se non si tratta Di territorio Antartico Ma di deserto Comunque E' un territorio Particolare Composto anche Da rilievi Montuosi E Questo è tutto Per ora Non è stato Più avvistato Ho Osservato Altri voli Quest'oggi Della Janet Airline E Nient'altro Se ci saranno Novità Le condividerò Qui Con un altro video Vedete Tutti questi aerei Passano All'esterno Dei confini Circo Che circondano L'area C'è da dire Una cosa Nella vicina California In questi giorni Sono divampati Degli incendi Devastanti Per questo Sono stati Osservati Dei velivoli Particolari Addetti Al controllo Degli incendi Ed elicotteri Aeree Ed elicotteri Cominciano tutti Perenne Quelli che cominciano Perenne Sono dei velivoli Particolari Deputati Al soccorso O Al Antincendio Però Non credo Che sia possibile Collegare Questo tipo Di velivoli Con Quello Osservato Dentro L'area 51 L'area Di Groom Lake Conosciuta Come Detachment 3 Quindi Se ci saranno Novità Farò Un altro Video Per ora È tutto Grazie Di aver Visualizzato Buona serata A tutti Un saluto Buona serata Buona serata